Ragazzi questa qui è la salina segreta Che si trova qua dietro Eccola qui Proprio qui E così finisce Voilà Ragazzi così finisce anche questa quinta settimana Quindi E' stato bello ragazzi Questo ora mi killerà Eccolo qua Grazie mille a tutti ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti Cosa ne pensavate di questa settimana Io finalmente ho sblocchiato Come tutti voi ragazzi i links di ghiaccio Grazie mille a tutti ragazzi E noi ci vediamo al prossimo video E un bacione a tutti Ciao boys